Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questa è l'estrazione ragazzi del video contest di FIFA E si ci ho messo un pochino a fare questa estrazione Però alla fine l'ho fatta Ho visto che ho avuto anche tanti bei like Vi ringrazio a tutti i ragazzi per la vostra collaborazione E per giustamente la partecipazione a questi contest che io faccio So che in settimana avrei dovuto anche far uscire il contest di GTA Però purtroppo non mi è stato possibile per tutta una serie di eventi Quindi in seguito farò un video dove vi spiegherò Più o meno cosa sta succedendo, cosa succederà e tutto il resto Comunque sia ne parlerò in un altro video E poi niente Per quanto riguarda il contest andiamo a vedere ragazzi Chi è il vincitore di questo contest Qui ci sono parecchi commenti Adesso diamo una caricata Giusto per vedere un'occhiata In linea di massima Insomma abbiamo tanti bei commentici Quindi andiamo ad incollare il nostro link ragazzi Andiamo ad incollare il nostro link Con il solito sito random comment pick E andiamo a vedere cosa succede ragazzi Insomma chi ha vinto questo video contest Chi si è meritato si 30.000 crediti Ricordo sempre i parametri per essere i vincitori Dovete essere iscritti al canale Avere il canale pubblico in maniera tale che io possa controllare Commentare con un partecipo Lasciare like E quando avete tutti questi requisiti Avete tutto a posto ragazzi Quindi adesso incolliamo il link E prepariamoci al vincitore di questo video contest ragazzi Subito dopo questo video farò uscire Un altro video contest di FIFA Così non mi sbaglio E quindi nulla Andiamo a vedere Chi è il vincitore Abbiamo visto che è Kale Boom Boom ragazzi E vediamo se Kale Boom Boom Risponde ai requisiti Che ci servono per Allora Qui Mi sembra Eccolo qui Qui abbiamo il video ragazzi 199 visualizzazioni E Adesso dobbiamo vedere le iscrizioni ragazzi Vediamo se è anche iscritto al canale Però suppongo di sì Perché è parecchio che mi segue Quindi Suppongo di sì Andiamo a vedere Andiamo a vedere E E quindi nulla Se il Vincitore Corrisponderà a tutti i requisiti Automaticamente avrà vinto ragazzi Detto questo Abbiamo anche l'iscrizione A questo punto ragazzi Aspettate un nuovo contest Il vincitore di questa settimana è Kale Boom Boom Vi aspetto per un nuovo contest Basta avere altri 30.000 crediti di FIBA Un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti No creo pero palabra de Dios No quiero las gracias pero me las darás La vida me foglia y yo no puedo más Yo no soy la puta de nadie mamá He conocido a Dios y a Satanás He conocido a Dios y a Satanás